Musica Artodoli, il Cervia ci riscopre grande avvalendosi del marchio Campioni che caratterizzava il giallo-bru di casa nel lontano 2004 quando il club fu protagonista a livello nazionale sulle reti Mediaset all'interno di un programma di intrattenimento vittima a sacrificare le nuove affette, arrivato decimato all'appuntamento tra assenza e squalifica e costretto a rinunciare anche all'ultimo arrivato Mosconi la gara si apre con questa punizione battuta da Ceccarelli, quale recrimina per un faro di mano non sanzionato dal direttore di gara l'azione prosegue con il pallone raccolto e spedito in aria avversa dove il traversore di Calandra non viene raccolto da nessuno dei compagni invece sempre da un pallone gettato in mezzo alla mischia la gara si sblocca, Valentini mette al centro Alberani approfitta del mancato intervento della difesa ospite per battere, battare la risposta di nuova affetta per bene dal calcio appiazzato, la battuta dei radi viene scaraventata nei piedi di Moratori i quali si intersta a Dissi in un assolo personale che lo porta a inventare e trovare una velenosa traiettoria che sorprende Brajón per l'1-1 per Moratori si tratta del secondo centro di campionato, stagione che è iniziata anche per lui con qualche guaio muscolare il nuova affetta gioca 45 minuti di buon calcio e le sortite offensive sorprendono la difesa di casa quando Sartini si invola verso la porta avversaria Brajón ci mette una pezza l'ex junior si appoggia alla sfera per Di Filippo che c'entra il legno alla destra dell'estremo di casa dall'angolo Icerbia va vicinissimo al bersaglio, mentre in nuova affetta da un'azione insistita tenta la battuta dalla distanza affidata a Mamutai pallone fuori misura Icerbia quando affonda fa male, qui Alberani rischia la doppietta e il suo pallonetto viene sventato da radi lo stesso Alberani pescato in profondità mette al centro per la corrente Romagnoli che di piatto batte Batani portando Icerbia sul 2-1 primo tempo che ci conclude con questo tiro cross a cura di Di Filippo Broccato da Brajón nella ripresa in nuova affetta esce di scena mentre Icerbia padroneggia rendendo da subito l'idea con questo tiro dalla distanza che si spegne di un nulla a lato da corner arriva il trisse, Calac sotto misura non perdona lo stesso giocatore troverà nuovamente gloria personale quando da un pallone è perso a centrocampo Alberani segue l'ennesima sgaloppata del match ha dalla testa servendo a Calac il più comodo degli assist, il quale ringrazia portando Icerbia sul 4-1 dall'ennesimo pallone gettato in mezzo all'area di rigore nasce un parapiglia che si conclude con la deviazione vincente a firma di Valentini siamo a questo punto sul 5-1 in nuova affetta si vede con questa discesa di Di Filippo pallone al centro, Muratori va a terra per l'arbitro, si tratta di rigore dagli 11 metri lo stesso attaccante sigo il gol che lo porta a 4-3 nella classifica capocannonieri le disattenzioni però proseguono e da una rimessa laterale Icerbia arriva addirittura alla sesta marcatura con Romagnoli termina qui una gara che vede Icerbia di acquisire fiducia dopo un inizio di stagione travagliato il sogno promozione sfumato all'ultimo istante l'anno prima nei playoff col coreano inizia a materializzarsi anche in questa stagione il nuovo affetto invece dovrà ripartire dai buoni 45 minuti del primo tempo per ritrovare fiducia nei propri mezzi ma soprattutto servirà come non mai recuperare in fretta alcuni uomini fondamentali per centrare l'obiettivo salvezza